Le tradizioni del buon cibo e dell'ospitalità non crescono sugli alberi, o forse sì. La cultura enogastronomica della nostra terra ha radici profonde. È un patrimonio artistico italiano che dà frutti a chi ne riconosce il sapore. Entra in Gamero Rosso University, la prima università online per gli imprenditori, i manager e i professionisti del settore enogastronomico e turistico. Grazie.